Squadra che vince non si cambia, ma per Giuseppe Sannino vale anche il detto squadra che convince non si cambia. Ed ecco affidarsi per la sfida con il Cittadella ai titolarissimi confermando il modulo 3-5-2. Recuperati Massimo Coda e Luigi Vitale, il tecnico Granate è pronto a schierare l'attacco formato dal bomber Meteliano con Alessandro Rosina nel ruolo di seconda punta. Dunque panchina per Alfredo Donnarumma che almeno ad inizio settimana sembrava essere destinato ad una maglia da titolare anche in virtù dei problemi fisici accusati da Coda alle prese con una botta alla caviglia. Sannino però è stato molto chiaro con il recupero di Coda cambia tutto e Donnarumma si accomoderà in panchina pronto a subentrare a gara in corso. In mediana come detto Vitale farà regolarmente parte del quintetto iniziale presidiando la corsia di sinistra. Il mancino di Castellamare di Stabbia mercoledì ha effettuato un'infiltrazione e ieri si è allenato regolarmente. Il fastidio alla schiena si è attenuato e Sannino ha subito deciso di lanciarlo nella mischia per sfruttare le sue doti di spinta. Con Vitale confermato a sinistra sulla corsia opposta ci sarà in prota tra i migliori in questa fase della stagione. Il terzetto centrale invece vedrà ancora una volta della Rocca schierato nel ruolo di regista con l'ex Busellato e Ogera ai lati. In difesa con Terracciano a presidiare i pali della porta granata ci saranno Perico sul centro-destra con Tuia sul lato opposto e Bernardini come sempre al centro a comandare tutto il pacchetto arretrato.